Un nuovo inizio, potremmo intitolare così la liturgia della parola di questa domenica. Bentrovato padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a tutti quanti voi. Buona Pasqua della settimana a te. Dopo l'inizio dei segni a Cana due domeniche fa, domenica scorsa l'inizio del Vangelo e l'inizio della vita pubblica di Gesù, oggi la vocazione di Geremia, l'inizio del cammino di Gesù verso Gerusalemme. Diciamo subito ai nostri amici che il testo che oggi celebriamo è sempre il capitolo quarto di Dupo, quindi è la ripresa di quello di domenica scorsa. E come chiave di lettura, giustamente come tu hai già affermato, viene data la famosa provocazione profetica del grande Geremia. Geremia è stato a livello di Antico Testamento una figura chiave, un giovane chiamato a una vita profetica non facile. Qualche studioso dice che spogliando Geremia viene fuori il Cristo, perché somiglia tantissimo a Gesù. Ha subito tanti torti, più volte torturato, più volte disconosciuto, poi addirittura portato in Egitto e ucciso. La chiamata di Geremia è uno dei testi più forti, più belli. Davvero il testo è meraviglioso, perché il Signore dice io ti ho stabilito come profeta delle nazioni e poi gli dà quell'ordine, cingiti i fianchi, alzati e non spaventarti davanti a loro, piuttosto fa quello che io ti ordinerò, non temerli. Ecco, non bisogna avere paura, il profeta non deve assolutamente temere. E il Signore dirà un segno, io faccio di te come una fortezza. Questa immagine che dà il senso della forza, dà il senso della resistenza. Tu sarai come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giude e i suoi capi. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno. Qual è la motivazione? Perché io sono con te, il nome di Dio. Quindi viene rivelato il nome di Dio ancora una volta a Geremia. Anzi, quando si forma l'Antico Testamento, questa espressione della rivelazione del nome di Dio, proprio fatta a Geremia, viene riportata anche indietro per la vocazione profetica del grande Mosè, al capitolo 3 dell'Esodo. Quindi la chiave di lettura è interessante. Per quale motivo la Chiesa sceglie questa prima lettura per commentare, in un certo senso, dare la chiave interpretativa del testo di oggi? Perché oggi potremmo dire che Gesù viene presentato come colui che porta a compimento le antiche scritture. Il testo del Vangelo inizia proprio al versetto 21, quando si ricorda l'espressione oggi è stata portata a compimento nelle vostre orecchie questa scrittura. Quindi Gesù capisce che quella scrittura è proprio la sua. Lui leggendola e leggendola con un certo trasporto ha compreso che quella è la sua vocazione. E gli altri se ne sono accorti di questo momento così importante. Potremmo chiamarlo un momento anche vocazionale, come è stato al battesimo, come è stato cane di Galilea. E Luca sottolinea in 4.22 la reazione delle persone, che sembra favorevole. Gli occhi di tutti furono fissi su di lui e si meravigliano per la sapienza, ma in realtà poi lo rifiutano. Perché c'è tutto questo? Chissà quante volte avranno ascoltato quel brano profetico, i presenti nella sinagoga. Certamente, come lo ha letto Gesù, ha trasmesso forse qualcosa di nuovo. Quel brano è come se ritornasse. I testi, dicono i rabbini, hanno 70 sensi. Gesù l'avrà letto in un modo davvero molto forte, per cui il brano torna a rivivere, diventa interpellante per le orecchie di chi ascolta. L'uso e l'abuso del medesimo forse ne aveva ammutolito la forza. Soprattutto Gesù sottolinea quel oggi. Luca ce lo fa vedere tante volte nel suo Vangelo. Quell'oggi che indica un'attualizzazione, è una scrittura che non è certamente un monumento storico che sta nel passato, ma una parola che interpella. Perché potrebbe essere devitalizzata dalla prassi di chi non sente che la parola continuamente interpella, di chi ignora che la parola di Dio è una parola dialogante. Ecco perché noi, dopo la parola di Dio, la prima, c'è sempre un salmo responsoriale. Rispondiamo con la parola alla parola, con un salmo alla prima lettura. L'insegnamento qui è interessante perché, come se Luca volesse dirci, quello che si faceva nel Tempio e nelle sinagoge, aveva in un certo senso ammutolito la parola. In Cristo oggi tutto riparte. Hai detto bene, c'è un nuovo inizio. Il progetto di Dio riprende quota. Gesù vuole dire che la salvezza è qui, è davanti a voi. E io sono colui che davvero interpreta e realizza questa profezia. Chiaro che davanti a tutto questo la reazione non tarda a venire e Gesù vede che passano da un presunto entusiasmo a una reazione negativa. Ecco perché Gesù riporta quel famoso proverbio, medico cura te stesso, perché vuol dire che egli ha avvertito di essere entrati in collisione con quella tradizione rabbinica ufficiale. avverte anche il desiderio che vogliono vedere a Nazareth ciò che è successo a Cafarno. E Gesù è costretto a citare un secondo proverbio. Nessun profeta è ben accetto in patria. Come a dire a Cafarno sì, da voi a Nazareth no. Come del resto poi è capitato ai grandi profeti del passato, come Elia ed Evisea. Ricorda il testo, gli antichi avvenimenti in occasione della carestia del paese, Elia fu mandato a una vedova straniera. Nonostante i molti lebrosi in Israele, il suo allievo Eliseo guarì uno straniero, un ministro della Siria. Che vogliono dire questi riferimenti a fatti e personaggi dell'Antico Testamento? Dicono che l'attesa salvezza di Dio è giunta nella persona di Gesù, ma è come se la gente si escludesse. Come al tempo di Elia ed Eliseo non c'è questa apertura e Gesù come Elia ed Eliseo potrà fare dei segni soltanto agli estranei, i quali si rivelano persone di maggiore fede. Ecco perché gli uditori mal sopportano tutto questo. Il loro gesto anche di alzarsi in piedi è significativo. Partono da un atteggiamento di ascolto, di accoglienza a un rifiuto irrevocabile. E Luca nota che Gesù viene cacciato dalla sua città. Addirittura lo vogliono uccidere buttandolo giù dal precipizio. È come se Luca anticipasse in questo inizio delle ostilità, fa vedere il presagio di una vita che non sarà facile, anzi che a Gerusalemme si compirà con una crocifissione. Ma questo è anche un inizio di un confronto che però vedrà vincitore Gesù. Ecco perché Luca chiude quel brano in un modo molto bello perché dice ed egli passando in mezzo a loro se ne andò. Quasi a voler dire il progetto di Dio che abbiamo già visto nel periodo natalizio, abbiamo visto nel momento di Cana al battesimo. Ebbene, questo viaggio non può terminare. Quel precipizio poi in tutto sommato diventerà il momento in cui inizia tutto da capo perché la Pasqua porterà oltre e vincerà queste reazioni. Gesù attraverserà la morte, risorge, vince ogni male e vincerà anche quell'ultimo nemico che è la morte definitiva. Ecco perché oggi questo testo ci ricorda quanto sia importante da parte nostra evitare quelle durezze dei nazaretani. Somigliano molto anche a noi. Spesso noi vogliamo un Gesù al nostro uso e consumo. Invece dobbiamo accettare il progetto di Dio, metterci dietro di Lui nella fedeltà e nella gioia più sincera perché questo davvero ci fa sui discepoli. Anche questo Vangelo di oggi ci fa capire che aver fede è aprirsi, seguire e mettersi in cammino. Così si evince anche che la misura di Dio non è avere misure, insomma. È non avere misure. Sì, perché l'errore che potremmo fare, lo diceva anche tante volte Benedetto XVI, non basta conoscere o presumere di conoscere il Cristo, è importante accoglierlo, è importante riscoprirlo continuamente, è importante lasciarsi interpellare dalla sua parola. Come dici tu, mettersi dietro in viaggio verso Gerusalemme. La fede non è mai quietismo, la fede è dinamismo continuo, per cui è una relazione da costruire giorno per giorno con il Signore. Ma sappiamo che abbiamo una certezza, Lui ci viene incontro e questo è, direi, il fondamento della nostra vita cristiana. Benissimo, noi ti veniamo incontro, ci ritroviamo prendendo un appuntamento, quello della prossima settimana e ti ringraziamo di cuore anche oggi, Padre Ernesto. Grazie a voi e buona Pasqua della settimana. A te, shalom. Shalom. A te, shalom.